Siamo nella seconda domenica di Quaresima e nel Vangelo si ascolta che Gesù sale sul monte il monte che la tradizione definisce il monte Tabor e lì si trasfigura davanti ai discepoli che lui ha portato con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e davanti a loro manifesta la sua gloria la gloria che indica la sua divinità lui è vero uomo ed è vero Dio ma allo stesso tempo anche manifesta quello che lui farà e quello che lui sarà cioè il risorto, il vivente colui che non muore più colui che è il primogenito di questa nuova generazione cioè dei figli di Dio che sono risorti nel cuore ma che un giorno poi risorgeranno nella carne ma allo stesso tempo Gesù attraverso questo evento della trasfigurazione vuole dire ai suoi discepoli che nonostante il momento terribile l'ora delle tenebre che attraverserà lui ma anche i suoi discepoli ecco quello è un momento di passaggio e il venerdì santo è un momento di passaggio per una gloria che non avrà mai fine pertanto Gesù vuole aiutare i suoi discepoli vuole essere un maestro un pedagogo vuole insegnare i suoi discepoli che solamente attraverso la cruce si può arrivare alla gloria della risurrezione e proprio sul monte si ascolta una voce che definisce Gesù l'amato il figlio amato di Dio perché in Lui il Padre Celeste pone la sua compiacenza perché Gesù è il figlio ubbigliente del Padre questa voce del Padre Celeste nel Vangelo risuona nel Vangelo di Matteo risuona più di una volta nel Battesimo, nel momento della trasfigurazione e poi alla fine negli ultimi capitoli del Vangelo da un centurione che dice a Gesù davvero costui che è il figlio di Dio ecco guardando Gesù guardando il crocifisso possiamo scoprire che Gesù non è solamente l'uomo è il figlio di Dio proprio quando Lui è vicino a noi nel momento della prova nel momento della sofferenza nel momento delle difficoltà Gesù non è il Dio lontano che vuole essere adorato ma Lui è il proesistente colui che è pronobis cioè per noi per la nostra salvezza per la nostra felicità per la nostra consolazione ma sul monte oltre all'ascolto di questa voce c'è una grande luce è la metamorfosi che sta avvenendo in Gesù questa grande manifestazione della gloria e questa luce è l'immagine di quello che noi ecco siamo e dovremmo essere o meglio più che essere Gesù l'immagine siamo noi l'immagine di Gesù perché noi da Lui attingiamo la vita quindi noi siamo a Sua immagine e somiglianza a immagine e somiglianza di Cristo se Lui è luce anche i cristiani sono nella luce perché? perché in noi vive la vita divina c'è la vita divina la vita dei figli di Dio la vita di coloro che non muoiono più perché sono immortali perché sono inseriti nel dinamismo della vita e della grazia perché se Cristo è il vivente anche noi siamo viventi e questa vita noi la dimostriamo la manifestiamo attraverso le opere di misericordia attraverso la nostra vita paradossale perché nella logica del mondo che ci propone l'autosufficienza l'autoreferenzialità per cui l'Io è il vero Dio il cristiano invece oppone un'altra verità solo Dio è il Signore e l'altro che accanto a me non è solamente il mio prossimo ma soprattutto un fratello da amare un Gesù da servire ecco un figlio di Dio da accogliere nella mia vita non è un figlio di Dio di Dio Grazie.